che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Questi tre paradigmi strutturano cosa? Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo, Manuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Lo psicopatico non è un insulto, una grande psicoanalista americana, Nancy McWilliams, dice testualmente che la personalità psicopatica raggiunge i più alti livelli della gestione americana, quindi lo psicopatico può anche essere un deviante, ma in realtà se organizzato bene dal punto di vista culturale, intellettuale etc., può raggiungere i massimi vertici della finanza, della politica, cosa che in questo caso sta avvenendo. La personalità psicopatica è caratterizzata da tantissimi items, punti di riferimento, per esempio un fascino superficiale, la capacità di attrazione, poi facilmente anche messa in discussione nel momento della contraddizione, vediamo le crisi isteriche di Macron, nel momento in cui l'ammirazione che ha di fronte viene meno e quindi mette in difficoltà il suo falso sé, la sua scadente identità. È caratterizzato per esempio dalla grande teatralità, peraltro coincidente con l'insegnamento che lui ha avuto dalla sua sedutrice, che era anche un'insegnante di tecnica teatrale, quindi anche in questo coincide.